Ciao a tutti amici, bentornati nel canale di Cassa Corporation. Innanzitutto il ringraziamento va a tutti voi per i 420 iscritti che ha raggiunto il mio canale, che per me era una cifra veramente impensabile all'inizio. Salutiamo anche il nostro amico Daniele, è Dano 84 all'U84, che oltre ad aver fatto un video in doppio sull'unboxing di Elenoir, ci siamo anche incontrati e abbiamo passato un pomeriggio piacevole a Rimini. Salutiamo anche DavideOnzolo97, che mi ha suggerito un nuovo programma per girare i video. Questo vlog sarà un vlog molto rapido e vi introdurrà alla nuova rubrica, che spero diventerà un appuntamento fisso, poi valuterò bene la cadenza con cui presenterò questo appuntamento, ma si chiama Consigli per gli acquisti. Cioè, qua vi farò vedere praticamente cosa offre e quanto costano, e soprattutto i titoli che a me, vabbè, spero anche a voi, siano interessanti o valga la pena acquistare. Soprattutto questo per rispondere alla domanda del video dell'unboxing di Elenoir, quando mi veniva chiesto se era meglio acquistare Elenoir al GameStop o al Blockbuster. Beh, innanzitutto bisogna anche ricordare che dove acquistare cambia, ma cambia soprattutto in fase di prenotazione, perché se noi prenotiamo un titolo abbiamo degli oggetti in più, abbiamo un qualcosa in più, soprattutto, cioè, solo esclusivamente quella prenotazione di questo titolo. Perciò vi farò vedere dove vale la pena acquistare, cosa regalano i vari Blockbuster piuttosto che GameStop, e vi auguro una buona visione e che, spero che questa rubrica vi piaccia, così la faremo diventare fissa. Perciò, consigli per gli acquisti. Partiamo subito con i consigli per gli acquisti. Il primo settembre 2011, alla cifra di 89,98, prenotando presso GameStop potremo ricevere un driver San Francisco in edizione speciale, dove l'edizione speciale, come potete vedere, contiene il vinile, pensate il vinile, proprio il disco, con 20 brani, il CD, che naturalmente penso che chi non ha dotato di vinile ascolterà il CD con la colonna sonora, sempre con i 20 brani, perciò avrete sia il CD che il vinile, e in più, in contenuti esclusivi, Challenger Replay Race, e una macchina, una Lamborghini Miura del 72. Questa offerta è valida fino ad esaurimento scorte, come potete leggere qua, perciò, affrettatevi a prenotare, perché, anche se prenoterete il gioco, che le scorte saranno finite, non riceverete queste cose, perciò io vi invito caldamente a prenotare questa edizione speciale. Successivamente, un po' più in là, vedremo l'uscita del fantastico Battlefield 3 Faultline, qua, addirittura sul sito di GameStop, possiamo vedere questo video introduttivo. Prenotando Battlefield al GameStop, sempre a 69 e 98, riceverete, insieme al gioco, le quattro lenzendari e mappe di Battlefield 2, ricostruite con la grafica di istruzione e la fisica permessa dal motore Frostbite, le armi ed i veicoli classici di Battlefield 2, ricompense uniche e nuovi archivment e trofei d'altro ancora. Cioè, praticamente, dei vecchi obiettivi di Battlefield 2 riportati sul 3. Anche in questo caso, l'offerta è valida fino al, e dentro, e non oltre, il 30 settembre 2011, perciò, ed è salvo l'esaurimento scorte, perciò, anche qui, correte a prenotarla. Vi ricordo che le prenotazioni per GameStop costano solamente 5 euro, e se poi rinunciate al gioco non succede nulla, o se volete passare sull'altra prenotazione, vi tengono buoni 5 euro, perciò, io effettuerai anche questa prenotazione. Ancora un pochettino più in là, l'8 novembre, attenzione, adesso scoprerò questa pagina, e molti di voi sapranno già di che cosa sta parlando, esce Call of Duty Modern Warfare 3, cioè, il Call of Duty, ultimo Call of Duty, e a seconda di tutti, il più bello, il più fantastico, insomma, diciamo che anche qua c'è abbastanza curiosità per questo titolo. Qua vale la pena disdire due cose. Allora, innanzitutto il gioco esce l'8 novembre, come ho detto prima, e costa 69,98 al GameStop. Se lo prenotate qui, riceverete questa steelbook, cioè una copertina di metallo, che può contenere i tre dischi, cioè i Modern Warfare e Modern Warfare 2, insieme a Modern Warfare 3. Come quello che vi ho detto, praticamente lo trovate scritto qua sotto, solo da GameStop, prenotando Call of Duty e Modern Warfare 3, riceverai in esclusiva lo steelbook, che può contenere i dischi della serie Modern Warfare. E in più, ricevi il poster di John Soap McTavish, questo qua, che potete vedere in questo angolino qui. Anche in questo, pochissimi pezzi disponibili, perciò, se non l'avete già fatto, prima di prenotare tutti gli altri, correte a prenotare questo gioco. Mi ricordo che anche qua, 5 euro di prenotazione. L'offerta vale da fine esaurimento scorte, perciò, se voi andate e prenotate il gioco, le scorte sono finite, ciccia per tutti. Rimanete a bocca asciutta. Allora, perché vi ho fatto vedere questa cosa? Perché, allora, come detto prima, prenotandolo da GameStop a 69,98, otterrete queste cose, mentre, aggiungendo un centesimo in più e andando a Blockbuster, infatti vedete qua, 69,99, però, se portate due giochi, lo paghi 9,99, e i giochi sono della lista Gold, cioè giochi molto, molto recenti. In questo caso, se lo prenotate da Blockbuster, otterrete tre skin, cioè una skin per tre modelli diversi di cellulare. Qua non so se si vede, quindi andiamo a cercare qua sotto, comunque sono, qua si vedrà pochissimo, comunque sono iPhone 3G e 3GS, iPhone 4 e Samsung Galaxy, perciò, se non avete questi tre telefoni, non potete andare in giro con la coverazza di Modern Warfare 3, che fa sempre un po' fighi, soprattutto quando vi squillerà il cellulare. Perciò, pensate bene cosa volete e cosa vi fa più comodo e con un centesimo in più potete andarvi a prenotare due cose diversamente. Battlefield 3, anche qua, pensate l'ironia della sorte, si vede sotto a Call of Duty Modern Warfare 3, la prenotazione di Battlefield 3, è la stessa che si ha se si prenota da Blockbuster, perciò qua è indifferente, e si ottiene sempre l'espansione Back to Cargand, perciò, qua non cambia niente, andate dove siete più comodi, dove è più vicino a casa vostra. E, per ultimo, ma non meno importante, io l'ho già prenotato, ho già speso i miei 5 euro famosi, ho prenotato Assassin's Creed alla cifra di 99,98. Sarò un po' pazzo, ok, ci sta, però con questa cifra otterrete l'Animus Edition, cioè, tutte queste cose qua, vale a dire un'enciclopedia, non so che cosa parlerà, poi faremo l'unboxing, anche se qua, come potete vedere, da questa data qua in alto, si va al 15 di novembre, faremo l'unboxing, poi ne parleremo meglio, quando le andrò a ritirare, comunque otteniamo un'enciclopedia, un corto animato, perciò penso che sarà o proprio un cartone animato o un DVD, come nell'altra precedente edizione, la soundtrack, la soundtrack del gioco, poi abbiamo novità in single player, abbiamo degli contenuti aggiuntivi, un'armatura, cioè abbiamo qua, pregiunti di Vlad, sono contenuti in single player aggiuntivi, l'armatura di brutto, e incremento di capacità, qua parla di una freccia, di una bomba, dei proiettili, scusate, di una balestra, dei proiettili e delle bombe. In multiplayer avremo anche, il personaggio il crociato, giocabile, e il giulare ottomanno, giocabili da subito, acquistando questa edizione speciale, il tutto contenuto in questo box, che se devo essere sincero, confronto alla precedente edizione speciale, è un po' scarno, poi dopo, cioè scarno, non è tanto bello come quell'altro, poi come detto prima, quando avrò in mano il tutto, faremo un bel unboxing, e tireremo le somme anche su questo. Bene, l'appuntamento con gli acquisti si chiude qua, spero di avervi dato qualche bella dritta, e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti! Ciao a tutti!